Una delle domande che mi fanno più spesso su LinkedIn è come capire esattamente quanti collegamenti a una persona. Sì, perché finché sono meno di 500 il numero esatto compare qua in basso a destra in questo riquadro, ma superato quella cifra LinkedIn mette solo un generico 500+. E non c'è modo, o parrebbe che non c'è modo di vederlo guardando i collegamenti se ad esempio prendo il mio amico Carlo e vado a vedere il suo profilo qui c'è scritto 500+. Se faccio clic sui collegamenti mi porta in basso dove ci sono tutti i collegamenti e ancora una volta c'è scritto tutti 500+. Qui hai due possibilità, la prima è quella di scorrerli tutti e contarli ma ovviamente non è nel metodo più efficace, nel metodo migliore. C'è un metodo molto più veloce e ti consiglio di fare questo. Vai su rete e selezioni contatti come voce del menu. Contatti ti porta in quella che è la tua rubrica, se vogliamo, di LinkedIn dove hai tutti i tuoi collegamenti e qui puoi o scorrere per cercare il tuo contatto oppure altrettanto velocemente cercarlo anche qua. Quindi ricerchiamo Carlo anche in questa casella. Ecco che compare, ancora una volta vedi che c'è scritto solo 500 o più e quindi non riesco a sapere quanti sono. Ma se fai clic sul nome, ti compare a destra la scheda ed ecco qua il numero di contatti esatto.